Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Come, come, come state? Io spero molto bene, oggi sono qui dopo un po' di tempo che non registravo, sono un sacco felice di essere tornato a fare nuovi video per voi e sono qui con un video che mi avete richiesto tantissimi di voi e ovviamente io sono qua per accontentarvi, infatti cercherò di fare più video richiesti da voi, sempre nel limite del possibile, quindi il video di oggi sarà dello speed painting anche con un paio di cosette diverse e quindi spero possa piacervi, mi raccomando indossate le cuffie o auricolari, quello che volete, stendetevi nel vostro letto e preparatevi a chiudere per ieriocchi per ieriocchi per ieriocchi per ieriocchi per ieriocchi ufff a lì a lì no un po' di più ok ok no no un po' di più no 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 i no 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 Adesso voglio mettere questi, anzi li metto e torno da voi, sono stati un po' difficili da mettere. E' un po' difficili da un po' difficili da fare. iscriviti al canale un po' più bello no eccoci Sì, sì. no Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Buonanotte. 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 Buonanotte.